Dopo una prima fase di avvio del metodo di raccolta dei rifiuti che ha portato ottimi risultati in termini di percentuali di raccolta differenziata a Dovada, non è cessato il fenomeno dell'abbandono, reso più evidente dall'assente dei contenitori stradali dove in passato confluivano spesso rifiuti non coerenti con la tipologia di contenitore. Oggi gli abbandoni si concentrano negli spazi meno accessibili oppure in prossimità dei cestini stradali della città, un fenomeno che Econet stima mediamente in circa 14,7 tonnellate al mese. Se non sono resi conto i componenti del gruppo Plastic Free che nel fine settimana in quattro punti del territorio provinciale sono stati impegnati in un'opera di minuziosa pulizia. Lo hanno fatto a Capriato d'Orba, ad Alessandria, a Casale Monferrato e a Dovada dove i volontari hanno percorso strada Cappellette. Questo è il risultato al termine della raccolta. Il gruppo abbandese era il debutto in questo tipo di eventi e agito in collaborazione con il gruppo Scout Varda 1 ed Econet che ha messo a disposizione Sacchetti e uno scarabile in cui conferiva il materiale raccolto. A tal proposito il presidente dell'azienda che si occupa di raccolta rifiuti nell'Ovadese e nella Quese, Elio Adizione, ha fatto una seria considerazione. Questo risultato ha spiegato è motivo di riflessione per chi abbandoni i rifiuti e dovrebbe imparare il significato di senso civico. Infatti la stragrande maggioranza del materiale raccolto era composto da frazioni che si sarebbero potute conferire al centro di raccolta. Sarebbe stato necessario solo un minimo di buona volontà. Per questo negli scorsi mesi si è deciso di intraprendere una strada improntata ai controlli e alla repressione del fenomeno. Dopo una prima fase di consolidamento del metodo se ne è resa dispensabile una nuova per ragionare la tendenza per tutelare gli ovadesi rispettosi. Dapprima abbiamo intensificato i controlli andando ad aprire in collaborazione con Econet e i Sacchetti abbandonati. Quest'azione ha permesso di elevare alcuni verbali e sanzionare i trasgressori, ha dichiarato l'assessore Marco Lanza. Successivamente si è deciso di adottare strumenti più evoluti di controllo e quindi si è passati all'adozione di fototrappole dopo un passaggio consigliare propedeutico all'adozione del regolamento. La polizia locale ha da subito iniziato ad utilizzare efficacemente questa dotazione. Sono state rilevate infrazioni con una precisa azione di indagine e di verifica e sono in partenza le prime sanzioni ai trasgressori. Sicuramente la repressione non è il metodo che avremmo preferito, ha dichiarato ancora il presidente di Econet, ma si è reso obbligatorio di fronte al perdurare del fenomeno degli abbandoni. In parallelo Econet sta acquisendo le banche dati necessarie per individuare tutti coloro che non risultano a ruolo, in particolare seconde case, e coloro che pur essendo a ruolo non hanno ritirato i contenitori, il che non consente di conferire in maniera regolare. A coloro che verranno individuati verrà debitata la tariffa non pagata negli ultimi cinque anni.